Sono 15 casi di positività al covid-19 registrati nella giornata odierna in Abruzzo, responsi dei 647 test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'istituto zoo profilattico di Teramo e dall'università di Chieti. Il numero complessivo dunque nella nostra regione sale a quota 2874. Le positività odierne rispetto ai test eseguiti restituiscono una percentuale del 2,3% di positivi sul totale. Nella giornata di ieri i positivi erano stati 27 su un totale di 1.234 tamponi, 2,2%. Meno tamponi quindi ma anche meno positivi con un trend generale che si conferma coerente rispetto agli ultimi giorni. 328 pazienti più 4 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 23 meno 1 rispetto a ieri in terapia intensiva mentre gli altri 1.680, meno 40 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero di casi positivi sono compresi anche 299 pazienti deceduti più 4 rispetto a ieri. 545 sono i guariti, più 49 rispetto a ieri, di cui 194 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al covid-19 sono diventati asintomatici e 351 che hanno risolto i sintomi dell'infezione sono risultati negativi in due test consecutivi. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 34.176 test, di cui 29.756 sono risultati negativi. Del totale dei casi positivi 242 si riferiscono alla ASL Avezzano sul Monalacuila, 723 alla ASL Lanciano-Vastochieti, 1.274 alla ASL di Pescara e 635 alla ASL di Teramo. I 15 casi di oggi invece non vedono nuove positività nella ASL Avezzano sul Monalacuila, 2 nella ASL Lanciano-Vastochieti, 12 alla ASL di Pescara e un solo caso alla ASL di Teramo.